L'idea di una famiglia di velisti L'idea di una famiglia di velisti Lo schema è un semi-race saloon dall'aspetto sportivo ed elegante Le linee di carena, particolarmente studiate a barca sbandata, forniscono prestazioni eccellenti unite a volumi abitativi al vertice della categoria Il piano velico frazionato a 9 decimi unisce l'efficienza dei moderni racer alla facilità di conduzione Il bompresso retraibile permette di armare con facilità le vele d'alasco di ultima tendenza Per la costruzione, in sandwich di vetro con rinforzi in carbonio e resina epossidica Vengono utilizzati i materiali e le tecnologie migliori con la laminazione in infusione e po' scura in forno La coperta è caratterizzata dalla tuga panoramica che si apre a formare un unico grande pozzetto dove le zone tecniche restano ben separate dalle aree destinate agli ospiti Un equipaggio ridotto può gestire le manovre con facilità tramite l'attrezzatura concentrata davanti alle timonerie Oltre al progetto e alla costruzione è la qualità dell'attrezzatura che rende una barca sicura e affidabile Advance utilizza componenti top di gamma delle migliori marche Tutto sull'Advance 66 è stato pensato per l'eccellenza Ma una barca a vela non è solo tecnica Fondamentale è anche la qualità della vita a bordo e la possibilità di godere immediatamente la natura che ci circonda Per questo grande importanza è stata data agli spazi dedicati agli ospiti e al relax Il pozzetto unico con pavimento su un solo livello Offre un collegamento diretto tra gli interni e il mare Troverete una dinetta all'aperto con sedute confortevoli e tavolo abbattibile Una zona poppa delle timonerie adatta a prendere il sole E un diretto collegamento tramite una comoda scala con la plancia per i bagni di mare Verso prua la vasta area piatta e pulita con osterigi e attrezzatura a filo Consente di alloggiare anche un tender di grandi dimensioni Le superfici vetrate della tuga e il disegno interno moderno e accogliente Offrono una qualità di vita eccellente con ambienti raffinati e al contempo comodi come una villa al mare Il layout interno è organizzato in quattro zone distinte Per le quali sono offerte numerose soluzioni senza modificare l'integrità strutturale A prua la cabina armatoriale con diverse posizioni per il letto A centro barca la zona della cucina con tre scelte per l'area dritta E il quadrato panoramico con divano trasformabile in cheslon A poppa le cabine ospiti con letti matrimoniali o separati ma sempre in piano La vetratura a 360 gradi insieme alla striscia centrale e agli oblò sulle murate Consente un collegamento esterno-interno senza pari Tutta la zona che comprende quadrato e cucina si avvantaggia di una doppia altezza E di una ineguagliabile luminosità Il tutto senza che la privacy venga compromessa La cucina dotata di tutti gli elettrodomestici delle migliori marche È su un livello più basso ma in diretto collegamento col quadrato Di fronte la zona condinetta all'americana può essere customizzata Secondo le esigenze dell'armatore Tutta la prua più fresca e silenziosa è dedicata all'armatore Con grande letto matrimoniale, numerosi armadi e abbondante luminosità Il bagno dedicato ha un ampio box doccia ed è rifinito con materiali di pregio Dati i generosi volumi, le cabine di poppa offrono un calpestio a tutta altezza Che consente di separare i letti con accesso comodo sui lati Sono complete di bagni con box doccia Molto curata la meccanica e l'impiantistica Con vano insonorizzato dedicato al solo motore E impianti concentrati nei volumi ricavati sotto il pavimento del quadrato Che favoriscono una facile accessibilità e manutenzione La dotazione di accessori include tutti gli elementi per il massimo confort Scelti per la qualità della realizzazione e del design L'ottima carena di Reichel Plus offre prestazioni al top in ogni condizione Ma nella massima sicurezza La chiglia dal disegno a T con zavora concentrata nel generoso siluro E la disposizione dei pesi in basso Forniscono un raddrizzamento rassicurante che rende la barca stabile, sincera e sempre gestibile La pala del timone dall'elevato Aspect Race Trasmette reazioni immediate Alla ruota l'Advan 66 è divertente come una deriva La poppa alta sull'acqua e la ridotta superficie immersa Le consentono di muoversi con agilità anche quando il vento scarseggia Mentre il bilanciamento dei volumi e la lunghezza al galleggiamento Che cresce con l'aumentare della velocità Forniscono tutta la tipica potenza dei maxi Le specifiche al top della qualità e i generosi volumi interni Con caratteristiche da barche ben più grandi Fanno dell'Advan 66 una scelta definitiva e completa Rendendo particolarmente conveniente il rapporto tra qualità, dimensione e prezzo Advan 66, il made in Italy nella sua massima espressione Per la sua massima espressione Grazie a tutti